La proposta del passaggio al sistema pubblico di gestione del servizio idrico a Gela, la cui delibera è stata approvata lo scorso 13 novembre dall'amministrazione comunale, è stata assecondata ieri sera dalla Sise Civica. L'esperienza della privatizzazione dell'acqua, si legge nella delibera, ha dimostrato come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscano la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri maturati per le generazioni future. Il capogruppo del Partito Democratico, Enzo Cirignotta. La Giunta valuterà il percorso per uscire dal lato idrico e quindi per ritornare ad una gestione pubblica e diretta dell'acqua in forma singola oppure associata. Il Consiglio Comunale ha espresso una posizione forte, eravamo in 17 e ritengo che su questa vicenda non si può più tornare indietro e il percorso per passare alla gestione diretta e pubblica dell'acqua così come ci chiedono i nostri concittadini, ormai è trecciato. E cosa vorrà dire? Che Caltacqua non gestirà più il servizio idrico a Gela? Questa delibera era necessaria per avviare un percorso. È chiaro che si tratta di fare riferimento ad una legge che è stata impugnata dal Governo nazionale. Aspettiamo l'impugnativa del Governo nazionale. Dopodiché quando avremo il quadro legislativo più chiaro, perché in questo momento è incerto, l'amministrazione comunale insieme al Consiglio Comunale valuterà il passaggio all'acqua pubblica. È chiaro che il percorso non è breve perché ci muoviamo in un quadro legislativo molto incerto, però come dicevo prima la via, il percorso è irreversibile. Ma ci saranno anche delle penalità da pagare considerato che c'era un contratto con Caltacqua? No, questa è una facoltà prevista dalla legge. Durante i lavori del Consiglio Comunale di Risera è stato approvato un atto di indirizzo che chiede alla Giunta di verificare se effettivamente esistono tutte le condizioni per la gestione pubblica del servizio idrico. Il Consiglio Comunale per rafforzare ancora di più la posizione del Lende Comune in merito alla gestione pubblica dell'acqua è quello di dare mandato all'amministrazione comunale di valutare e verificare se ci sono le condizioni per una risoluzione anticipata del contratto visti i numerosi disservizi che Caltacqua ha fatto patire alla cittadinanza. Questa è acqua non potabile, acqua a singhiozzo e pagata a caro prezzo. Un dato politico importante, che è giusto che la cittadinanza lo sappia, è stata votata questa delibera da 17 consiglieri comunali e c'era l'assenza in aula sia di tre consiglieri comunali dei grillini sia di due consiglieri comunali vicinissimi all'avvocato greco di un'altra Gela che ha fatto in questi anni tantissime battaglie per quanto riguarda la gestione dell'acqua pubblica. Questo è un dato importante, la delibera è passata grazie al voto importante e compatto del consigliere comunale del centro-sinistra.